Buonasera, buonasera a tutti gli amici, grazie al mio amico Fabio noi abbiamo collaborato anche noi alla ricrescita di Amatrice, perché questo vino qua come ben vedete viene dai terre di Amatrice e noi con un piccolo contributo abbiamo collaborato anche noi a far sì che un popolo ricresca al più presto e con questo vogliamo fare un brindisi io e grazie all'amico Fabio che mi ha dato la possibilità di prendere questo ed aiutare con un piccolo contributo il popolo di Amatrice, vogliamo fare un brindisi alla ricrescita al più presto possibile di quel popolo sfortunato che è caduto sotto un tremendo terremoto, alla salute e a una ricrescita più presto, salute e viva il popolo di Amatrice, buonasera, ciao ciao